Si è svolta sabato pomeriggio dinnanzi la piscina comunale una manifestazione pacifica organizzata da un cittadino nisseno per cercare di ottenere risposte sulla riapertura della piscina che non pochi disagi sta causando da oltre tre anni dalla sua chiusura. Una data sembra certa, data dalla ditta che ha vinto la gara d'appalto e confermata dal sindaco Gambino, ossia aprile 2023, dove si ci augura che la piscina possa riaprire e portare i nisseni a non spostarsi per usufruire di un bene collettivo. Oltre all'organizzatore della manifestazione Armando Turturigi e ad una cinquantina di persone presenti, vi erano il sindaco Roberto Gambino, il vice sindaco Grazia Gianmusso e l'assessore allo sport Fabio Caracausi, dove hanno spiegato le dinamiche del rallentamento dei lavori. Presenti anche i consiglieri Michele Doro e Annalisa Petitto. Sono contento per com'è andata, anche se non eravamo tantissimi, eravamo una cinquantina. Però è stato un incontro molto proficuo, ci è stata data una data per la riapertura, cioè aprile 2023, il sindaco ha dato la sua parola. Ho ricevuto tanti messaggi di supporto prima di questa manifestazione, centinaia, però non li ho visti qui. Io penso che sia una questione di mancanza di cultura sulle manifestazioni. È importante che cominciamo a imparare, perché le marce, le manifestazioni, perché solo così possiamo far capire a chi sta in alto la situazione integrata e il disagio che viviamo, non basta solo scrivere. Quindi vorrei farvi questo appello. I cittadini devono partecipare a quella che è l'attività politica, non potendo partecipare direttamente in consiglio comunale, però è giusto che facciano sentire la propria voce su alcune tematiche che spesso vengono un po' sottovalutate, come in questo caso la piscina che è da tre anni e mezzo che siamo ancora in attesa. Questa manifestazione, anche se non partecipata, perché purtroppo Caltanissette è una città che ama parlare sempre dietro, scrivere sui social, non ne parliamo, però quando c'è da partecipare poi purtroppo è assente.